Buonasera, oggi parliamo di pittura con Michelangelo Merisi, più noto come Caravaggio. L'opera di cui ho scelto di parlarvi si intitola Giuditta che taglia la testa d'Oloferne ed è conservata qui a Roma nella Galleria Nazionale di Palazzo Barberini. L'opera rappresenta un soggetto biblico. Vediamo Giuditta, una vedova della città di Betulia, che sta decapitando il generale Assiro Oloferne, che teneva sotto assedio la sua città da più di un mese. Dunque per salvare il suo popolo ormai allo stremo, Giuditta compie un atto molto coraggioso, finge di voler sedurre Oloferne soltanto per potersi introdurre nella sua tenda dove lo farà ubriacare e a quel punto lo decapiterà e salverà il suo popolo. Caravaggio ci mostra un tema già trattato nella storia dell'arte, ma mai nessuno prima di lui aveva mostrato quel momento così brutale, così violento, del passaggio preciso tra la vita e la morte di Oloferne. Vediamo che alla presenza dell'ancella aiutante di Giuditta la nostra eroina sta decapitando il generale e Caravaggio è andato a studiare nei minimi dettagli la posizione di Giuditta. Ha scelto di mostrarla con la mano che tira i capelli del generale per far sì che il collo sia teso e quindi la lama possa affondare in maniera efficace. Vediamo degli schizzi di sangue che vanno a macchiare le bellissime lenzuola bianche alle quali Oloferne con un ultimo disperato tentativo cerca di aggrapparsi. Quindi Caravaggio come una sorta di regista fissa questo momento, questo fotogramma drammatico, tutto giocato sui contrasti tra il chiaro e lo scuro come è tipico per lui, ma anche tra il vizio e la virtù, tra la giovinezza e l'età anziana. Secondo alcuni studiosi l'opera venne realizzata nel 1599 che è un anno importante per la città di Roma perché l'11 settembre si tenne un'esecuzione che tenne tutti col fiato sospeso, quella di Beatrice Cenci, la quale aveva ucciso suo padre per diremmo oggi difesa personale. L'esecuzione pubblica vide probabilmente tra i presenti anche Caravaggio stesso molto colpito da questo atto di violenza che qui viene tradotto in questo modo. In realtà secondo studi più recenti l'opera venne realizzata un pochino più tardi nel 1602 ma nulla esclude che Caravaggio abbia effettivamente preso ispirazione dalla Roma del tempo che era sicuramente molto violenta. Ci colpisce molto anche questa ambientazione molto scarna ma comunque molto efficace con questa tenda sullo sfondo che ci rimanda al campo teatrale e sicuramente da qui inizia il barocco che poi verrà sviluppato da altri artisti come Bernini di cui abbiamo già parlato. Caravaggio come vi dicevo era una sorta di regista che dipingeva sempre dal naturale, sceglieva dei modelli che dovevano posare come i suoi personaggi e in questo caso riusciamo a identificare la donna che posò come Giuditta. Si trattava di Filli dei Melandroni, una bellissima cortigiana senese che compare anche in altri suoi dipinti. Quindi abbiamo un ulteriore contrasto, quello tra il sacro e il profano che rende quest'opera ancora più meravigliosa.